Una settimana di eventi dedicati alla memoria legata alla ricorrenza del 2 novembre e al ricordo delle persone care. Il Comune di Napoli organizza la seconda edizione di Vivi nel Ricordo, un calendario di appuntamenti per riflettere sul valore sociale della memoria, con visite guidate ai cimiteri storici e monumentali della città come in tutte le capitali europee. Vivi nel Ricordo per offrire alla città una serie di importanti e bellissime iniziative culturali in tanti luoghi emblematici e simbolici e anche ai turisti un'occasione per conoscere la storia e l'identità di Napoli attraverso un'angolazione particolare, quella del culto dei defunti e il rapporto con la morte che è del tutto particolare come spesso accade in questa nostra città. Quindi invito tutti a seguire sul sito del Comune dell'Assessorato questo bellissimo programma di visite guidate e di rappresentazioni teatrali. Il percorso di quest'anno è dedicato alla memoria dello scrittore napoletano Ermanno Rea scomparso di recente. Dalla Chiesa delle Anime del Purgatorio ad Arco al Cimitero delle Fontanelle, dalle tombe di Virgilio e Leopardi a quella di Jacopo Sannazzaro, i percorsi che proseguiranno fino al 6 novembre abbracceranno l'intera storia della città. La nostra controffensiva culturale contro Halloween, meccanismo di colonizzazione culturale e consumistica, ma noi siamo Napoli e siamo l'Italia, abbiamo una grande storia e una grande tradizione culturale.